A Lucobond era finito perché è stato consegnato l'immobile da parecchi anni, quindi era finito, è a Lucobond. Non c'era polistirolo o altro materiale? Non glielo so dire questo. Non glielo so dire, so che è a Lucobond perché stavamo infatti verificando la possibilità di pulirlo e anche verificare la stabilità perché è parecchio tempo che non abbiamo mai fatto niente su quella facciata. Quindi si voleva nel breve approfittare delle agevolazioni fiscali per fare una pulizia, niente di più. No, una pulizia e verificare gli stati di ancoraggio, delle lastre, dei pannelli. Quindicesimo piano, confermo, confermo. E per l'affattamento in vacanza? Sembra che non ci fossero da due settimane, questo secondo quello che ha riferito il custode, però questo è quanto. Su l'innesco ha detto qualche cosa? Su l'innesco dell'incendio? No, lo stanno verificando le autorità. Ma come sarebbe inferno all'affattamento? Da quello che si vede dai video.